Dopo il primo blitz esterno della stagione domenica scorsa a Pordenone, le Rimini torna nel suo fortino per affrontare la Gianerminio, avversario diretto nella lotta per la salvezza. I Lombardi sono a quota 20, i Romagnoli hanno 6 punti in più, all'andata finì 2-2. Martini, per quella che ha definito la partita con la P maiuscola, deve rinunciare agli infortunati Danso, Bandini e Arlotti, fermatosi nel riscaldamento per una botta al ginocchio rimediata sabato. Tra i convocati, l'ultimo arriva in casa bianco-rossa, Calombo. È partita da ex per il centrocampista Palma. Il primo tiro della partita, un destro di Cicarevic da dentro l'area al nono, dopo uno scambio con Guiebre, Leoni blocca con sicurezza. Al ventitresimo, la punizione di Dallabone lontana dei pali di Nava. Al ventiquattresimo, traversone di Guiebre, ponte di Volpe per Montanare anticipato da Gianola, che sventa la minaccia. Al ventinovesimo, bella azione delle Rimini, brecca di Alimi che serve Cicarevic, palla Guiebre che avanza e giunto al limite dell'area calcia, pallone di poco oltre alla traversa. Al trentaduesimo, Dallabona recupera palla. Avanza per vie centrali e tenta la battuta nell'angolino basso. Nava si allunga ed è via in corner. Al trentaseiesimo, Simoncelli va al traversone. Bonalumi tocca di testa e Leoni recupera il pallone anticipando Cicarevic. Dopo 40 secondi di ripresa, Cicarevic cerca Montanare in area. Leoni legge bene la situazione e fa sua la sfera. Al quarto, traversone di Palma dalla tre quarti. Volpe non riesce ad impattare di testa e la sfera sfila lato. All'ottavo, il destro dipinto da fuori area, termina a fondo campo. Al quattordicesimo, cross velenoso di Guiebre. Bonalumi buca il pallone e Simoncelli scivolata spedisce fuori con la porta spalancata. Al ventunesimo, la punizione dal limite dell'area di Dallabona sorvola la traversa. Al ventitresimo, Montanare riceve da Palma. Si sistema il pallone e spara di destro. Sfera alta. Al ventisettesimo, Magia in area di Volpe, che ne salta due in un fazzoletto. La sua fiondata da pochi passi, centra in pieno la traversa. Al trentaseisimo, il cross di Guiebre viene bloccato da Leoni. Al quarantacinquesimo, Riglio può tentare la conclusione dal limite dell'area. Nava blocca senza problemi. Al quarantottesimo, rimessa di Nava. Buonaventura per Variola, il cui tiro si bilalato di poco. Finisce 0-0. Si allunga tre la striscia positiva con Martini in panchina. Cinque punti conquistati. Tre sono anche i pareggi interni consecutivi del Rimini, che sa la quota 27. La Gianerminio sa la 21.